La banca di una volta era la banca di tutti. Era la banca che veniva dalla terra, che ascoltava e che aiutava. La banca di una svolta è la banca che sogniamo. Una banca giovane, ma che non dimentichi i valori di un tempo. Una banca che dia credito perché ci crede. Una banca fatta dai soci e non dai soldi. Una banca competente, ma non potente. Una banca che torni ad essere davvero la banca di tutti e per tutti. La nostra banca di una svolta. Costruiscila con noi.